Le motivazioni sono le stesse da aprile ad oggi. Quello che stiamo chiedendo all'azienda è che finalmente rimetta un minimo di parità alla situazione salariale tra tutti i condizioni del CPM. Purtroppo il 5 giugno è stato firmato da CGL, CISL e UGL un accordo che noi riteniamo assolutamente discriminante nei confronti dei nuovi assunti e che va a ledere anche quelli che erano gli interessi e i diritti dei lavoratori più anziani che si sono visti cambiare la voce cao anche per loro. Quello che chiediamo noi con questa inesimazione di sciopero è che finalmente l'azienda torni sui suoi passi e cancelli questa corda che noi riteniamo assolutamente ingiusto per i lavoratori. e noi continueremo fino a che ciò non avverrà. che ciò non vediamo la fine domanda, io dovevo vedere i giornalisti, gli amici... ex Grazie a tutti